Glorioso San Mattia. Che fosti discepolo fedele del Signore. E poi apostolo fervente nel predicare Gesù risorto nella Giudea e in altre parti del mondo. Noi ringraziamo il Signore. Che ha affidato alla Tua protezione il nostro popolo. Aiuta anche noi ad essere come Te. Testimoni coraggiosi della nostra fede e ad amare il prossimo come Te. Che sull'esempio del Divino Maestro. Moristi pregando per i Tuoi uccisori. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli. Si è santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.